grazie presidente mi ha esentato dalle presentazioni che cercavo di capire e quindi entro subito nella questione come è nata l'idea di questo incontro è nata da una serie di cose che abbiamo visto in questi anni ne cito due random una è una chat di padre pio di cui parlai con andrea tanto tempo fa e allora questa chat di padre pio è rianimare padre pio in modo da utilizzarlo come padre spirituale e sempiterno praticamente il personaggio si presta a rappresentazioni folclorismi poi trovai la recensione di un libro io ho fatto filosofia per cui insomma qualcosa mi ricordo ancora che si chiamava porcospiri digitali l'autore in sala per quei pochi ricordi che ho mi era piaciuto molto e tra l'altro ecco davide sisto che è presente al festival di torino spiritualità e da lì una serie di app ragionamenti cose varie l'ultima me la manda un mio amico stamattina si chiama we croc è un memento mori con un app che ti manda cinque messaggi al giorno di questo tenore troisiano ricordati che devi morire e questo mio amico mi dice no mi alleggerisce e allora noi siamo tra il memento mori e il carpe diem al momento mori ti alleggerisce paradossalmente il carpe diem ti appesantisce questa è la prima domanda per il nostro andrea e poi c'è venuto il il dubbio come lo chiamiamo allora abbiamo detto beh tanatos ma per due motivi tendenzialmente tanatos è scritto perché non credo di ricordarmelo tanatos è il fratello di ipno secondo omero che è il sonno ma anche è il aiuto il figlio della notte secondo esiodo combiniamo i pezzi cosa fa tanatos tanatos dal mondo della notte del sonno viene e coglie la persona il comune mortale tra l'altro parentesi la dea speranza che è l'ultima a morire è l'unica consolazione che gli dei che si disinteressano dei mali del mondo lasciano in comuni mortali e da lì il tema pezzo finale che è la domanda per maria giovanna cioè noi non abbiamo più eh familiarità con la morte improvvisa c'è c'è un nuovo concetto che è la buona morte che buona non è per niente è la frase di Woody Allen ho smesso di fumare ma quella settimana che guadagnerò pioverà incessantemente per tutto il giorno allora che c'è che cosa succede succede che una volta quando ci si ammalava o si guariva o si moriva oggi no oggi si guarisce a determinate condizioni ci si cronicizza si diventa ultra ottoagenari per inciso uno su dieci a torino ottant'anni insomma cambia proprio il mondo nella sua complessità ma materiale non per forza nell'immaginario e insomma abbiamo provato a incrociare questa cosa con quella che la straordinaria trasformazione in atto del mondo che quella della transizione digitale e qui c'è il nostro terzo interlocutore ehm suggerisco per per la per una guida alla all'interlocuzione di eh immaginare tre piani eh cioè mi ricordo anche lì di nuovo ricordi del liceo noi studiavamo su un testo che era un mattone così e si chiamava l'immate il materiale e l'immaginario che segnò la storia della mia generazione al di là di come la si possa pensare come si suole dire io suggerirei però di fare un passaggio dal materiale cioè il nuovo mondo quello che alcuni chiamano infosfera quello che altri chiamano datificate insomma quella roba lì passando per lo spirituale perché lo spirituale fa parte del materiale secondo me comunque la si possa pensare e poi finendo sull'immaginario ho più o meno tracciato un ordine il materiale spetta a Sergio Bellucci che così ci racconta un po' di di Sergio poi è uno saggista e un giornalista per cui è molto più bravo di me a raccontare per immagini poi c'è lo spirituale ti tocca Andrea? Rifiuto ma va bene? Avevamo pensato anche di invertire a dire il vero avrei preferito il materiale però non sono molto esperto di spirituale no neanch'io infatti per quello che ti ti beh io sono andato a sentirmi il death caffè con 600 persone è stata un'esperienza abbastanza come dire eterotopica se posso dirla così e quindi chiuderei con Maria Giovanna Musso che si occupa di complessità e cambiamento quindi secondo me di processi culturali ma magari non è d'accordo ce lo dice lei e grazie che siete venuti non pensavo ci fosse tanta gente a quest'ora incredibile della giornata Sergio Bellucci il materiale a te vuoi il mio funziona sì buongiorno grazie dell'invito e provo a distrigarmi in questa richiesta di Diego di descrivere questo passaggio farò due premesse in modo che forse il mio ragionamento riuscirà più comprensibile perché ovviamente il tema non è non è semplice da distrigare innanzitutto la categoria della transizione secondo me scusate molto spesso ormai si usano i termini senza più andare a fondo del loro significato quella che io da qualche anno chiamo la caduta tendenziale del saggio del significato e cioè il fatto che le parole perdono il loro peso non la loro densità e quando si perdono le parole si perde la capacità di comprendere il mondo io considero la transizione una cosa diversa dalla crisi la crisi è un momento della società umana in cui l'equilibrio di gestione dei rapporti sociali dei rapporti economici del modo di produzione dei soggetti sociali eccetera va in disequilibrio questo disequilibrio produce una serie di effetti anche molto duri anche molto tragici ma poi al termine di questa fase la società ritrova un punto di equilibrio che è all'interno delle categorie delle forme precedenti si è ristabilito un ordine diciamo così la transizione è un'altra cosa la transizione del passaggio da un modello economico sociale da una cultura da una società ad un'altra società che ha altre regole altre forme altre logiche sì forse forse conviene per loro soprattutto perché altrimenti sì no c'è una finestra aperta che le transizioni non avvengono spesso nella storia umana quando avvengono la discontinuità è talmente tanto profonda che i soggetti sociali che sono investiti da questo cambiamento quasi non comprendono quello che sta accadendo anzi molto spesso non lo comprendono per tutta la loro vita si trovano in un passaggio gigantesco pensano di essere in una crisi pensano che si possa ritrovare un equilibrio ristabilendo quello che c'era ma al termine della transizione tutto è cambiato le regole del gioco sono cambiate la cultura del mondo è cambiata le relazioni tra gli umani sono cambiate l'ultima transizione che l'umanità ha vissuto ha una data di inizio simbolica che dice molto a tutti noi 14 luglio 1789 sono cadute delle teste ma non di personaggi così dei regnanti quella transizione alcuni storici dicono che è finita nel 1848 con l'anno delle grandi rivoluzioni dopo tanti dopo tanti fasi alterne alcuni dicono che è finita con la fine della prima guerra mondiale con la caduta dell'impero che ancora era in piedi altri storici dicono che siccome la prima guerra mondiale la seconda sono in realtà un'unica guerra con una pausa e mezzo dicono che quella transizione è finita nel 1945 le transizioni sono cose dense profonde hanno discontinuità gigantesche producono un ambiente una società nuova io credo che noi siamo in una transizione le modalità di questa transizione sono devastanti nel senso che mettono in discussione gli assetti fondamentali della nostra esistenza e oggi ne parleremo e ci sono alcune condizioni che hanno innescato questa cosa la prima è quella che io chiamo l'industria la nascita dell'industria del senso nel novecento è apparsa nella storia una struttura produttiva che non era mai esistita nella società umana le società umane costruivano il senso della vita quando dico il senso dico le cose quotidiane cioè il fatto che la mattina ci alziamo e preteniamo il caffè espresso che facciamo colazione con flex che pensiamo alla settimana in termini di fine settimana che pensiamo l'anno in termini di vacanza di ritmi eccetera no di modelli sociali il salario lo stipendio la tredicesima la quattordicesima e tutto quello che è la nostra vita questo senso fino al 1930 era sostanzialmente costruito dai rapporti sociali che ogni territorio aveva costruito con il proprio ambiente con la propria storia e infatti tra pisa e levorno non si potevano vedere da quartiere a quartiere nelle grandi città non si vedevano regioni diverse della stessa nazione avevano processi culturali e sociali completamente diversi arriva l'industria di senso sulla quale adesso comunque le strutture dei mass media sostanzialmente che poggiano sul marketing e questo è importante invece conoscerlo iniziano un meccanismo di strangolamento di tutte queste diversità e della generazione di un'omologazione progressiva a livello planetario che non era mai esistito mai esistito nella storia umana questa industria fa profitti nella costruzione del senso della vita cioè nel nel modo con cui noi ci alziamo la mattina e pretendiamo il caffè espresso e così via tutte le altre cose connesse questa transizione ha un'accelerazione gigantesca poggia sul marketing cioè sulla conoscenza dei comportamenti e la modificazione dei desideri delle persone e qui si innesca l'arrivo del digitale nel senso che per nei primi decenni questa cosa viene affidata sostanzialmente alla statistica e alle analisi statistiche dei comportamenti quando arriva il digitale si capisce che questa cosa può arrivare all'individuo cioè a misurare il comportamento del del singolo e a vendere queste informazioni sul mercato delle merci sul mercato del marketing questo esplode il pianeta lo fa esplodere noi tutti in questo momento stiamo producendo dati voi non lo sapete state lavorando per decine e centinaia di aziende anche se state ascoltando i nostri interventi perché avete un cellulare acceso e quel cellulare sta trasferendo una serie di informazioni sulla vostra vita sulla nostra vita e state lavorando per questa grande industria anche se non lo sapete quello che io da qualche anno chiamo il lavoro implicito e questo lavoro è quello che produce una quantità di risorse gigantesche e questo lavoro produce anche un cambiamento tra di noi la forma della relazione che noi abbiamo con la vita con la percezione stessa della vita e queste tecnologie arrivano fino al punto e qui credo che sia il tema del materiale della virtualizzazione di questo rapporto che cambia la nostra percezione con la realtà voi sapete che in questi mesi si sta discutendo tantissimo di intelligenza artificiale ma sotto sotto ci sono quantità di investimenti consistenti perché questa cosa possa essere abbinata alla costruzione dei metaversi cioè di ambienti virtuali nei quali vivere e poter consumare cose molto spesso saranno immateriali ma forme di relazione che portano a modificare l'idea stessa di come noi si possa vivere e questo questa trasformazione investe direttamente il senso della nostra esistenza della possibilità delle forme delle relazioni e del rapporto con la morte voi avete letto sicuramente in questi ultimi giorni del convegno credo sia di forza italia nella quale è stato proiettato un avatar in ologramma di berlusconi per renderlo presente fisicamente all'assemblea non è il primo politico che utilizza questa cosa ma questo dà il segno del rapporto che si estende al di là del confine della morte nei rapporti sociali diretti perché voi sapete cosa significa in termini di immaginario il fatto che quell'ologramma fosse presente all'interno dell'assemblea del partito che aveva fondato l'ologramma anche in termini di affidabilità del gruppo dirigente che l'ha creato dei meccanismi cioè la modifica strutturale di questa cosa e qui si apre un meccanismo gigantesco di modifica di cose che fino a ieri davamo per scontate e che scontate non sono perché il digitale produce sostanzialmente delle rotture che sono rotture verticali nel rapporto che l'individuo ha con la vita ad esempio la rottura della sequenzialità noi tutti utilizziamo delle chat di dialogo con il mondo zap o qualunque altra cosa e costruiamo relazioni che hanno una sequenzialità che non è la sequenzialità umana fisica io dico una cosa tu mi rispondi e dialoghiamo quella sequenza può essere interrotta e alterata dall'arrivo di altri messaggi prima che quella risposta che noi abbiamo richiesto arrivi e modifica le forme del rapporto con il mondo rompe la spazialità nel senso che io non so dove è collocata la persona con la quale sto dialogando potrebbe essere in australia o nella città dove vivo oppure al piano di sotto oppure essere morta e io posso al limite oggi con le tecnologie avere una risposta da una persona che è già deceduta e rompe il tema della materialità della relazione quindi le tre fondamentali strutture della relazione umana sono cancellate dall'avvento di questa tecnologia tecnologia che estende che cosa la capacità del marketing di capire che cosa sta accadendo nella società per fare che cosa per venderlo al mercato delle informazioni che serve per vendervi i prodotti che voi poi acquisterete e questo è il punto poi mi fermo così almeno poi proviamo a dialogare ma guardate che tutta questa cosa lo dico perché mi piacerebbe parlarne con gli altri interlocutori poggia su una rottura della struttura della conoscenza di come è fatto il mondo che è stato introdotto dalla meccanica quantistica pensate che oggi i fisici dicono che non esiste più il principio di realtà perché le particelle si definiscono in funzione della relazione che noi costruiamo con la particella che andiamo ad osservare e quindi quella particella esiste solo se e nella forma che noi interveniamo sulla sua condizione quindi la realtà non è definita così come noi abbiamo pensato per millenni e non esiste la località i due principi fondamentali su cui pensiamo che il mondo esista sono in realtà falsi cioè sono delle illusioni che i nostri sensi producono nel rapporto che abbiamo con il mondo quella che probabilmente nelle culture orientali viene chiamata maya il velo che ci dà diciamo così una percezione di quello che potrebbe essere la realtà ma che in realtà non è e qui capite bene che noi siamo all'inizio all'inizio di una nuova fase della storia umana di cui dobbiamo prendere atto e probabilmente chiedere ai decisori politici imprenditoriali sociali eccetera di prendere atto di questa nuovo inizio di questo nuovo cammino di cui abbiamo bisogno e cominciare a produrre i modelli sociali e l'idea di uomo che possiamo produrre con queste nuove conoscenze con cui siamo entrati in contatto per la cronaca Sergio Bellucci è un fisico così questo vi inquadra di più adesso ti tocca Andrea io allora però però no è banale scontato chiedere chiedere a lui di parlare di spiritualità e da vergognarsi e vabbè però in realtà no ma c'è un motivo Andrea è capace di raccontare per immagini in maniera notevole lui si occupa di algoretica che è una roba direi spessina e complicata però lui è capace di raccontarla per immagini io confido in questa tua capacità e so che il modo migliore per farti una domanda è non fartene alcuna quindi credo di finire qui allora inizio con un'immagine e l'immagine è l'ultima schermata dell'episodio avete citato Black Mirror San Junipero non so se l'avete visto è forse l'episodio più famoso di quella serie e l'immagine finale di San Junipero è una lucina accesa è la storia esattamente di una persona che muore e tutti i suoi dati tutta la storia vengono raccolti e digitalizzati e a lei è promessa una eternità nella forma della codificazione digitale della sua storia ora però se ci pensate bene a noi non ce ne frega niente del fatto che tutto quello che può essere registrato sia in un chip e ci sia una lucina accesa la questione diventa subito interessante se c'è invece qualcuno che quella lucina accesa la vede si accorge cioè che in qualche modo può ancora attingere alla mia storia, ai miei dati, alle cose che ho detto, che ho fatto eccetera 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 tutto diventa interessante la digitalizzazione e la registrazione della totalità dei dati che come diceva prima Sergio forniamo ai collettori di dati tutto diventa interessante cioè se c'è qualcuno che anche dopo la mia morte può usarli accedervi, conoscerli, registrare, interfacciarsi anzi addirittura con le nuove moderne tecnologie addirittura costruire una relazione nuova potremmo dirla così l'immortalità è comprensibile sempre e soltanto dentro una relazione perché se te ci stai da solo, bello e immortale, onestamente che ci faccio? questa cosa qui al di là del problema del come passare il tempo per l'eternità se non ho avuto nessuno con cui chiacchierare che capisce una noia mortale ragazzi in realtà pone una questione più seria perché è critica potente al pensiero essenzialista tutto preoccupato e vi posso assicurare che l'agenzia per cui lavoro ogni tanto si lascia prendere da questa tentazione tutto preoccupato da dire che la mia anima è immortale e chi se ne frega cioè intendo dire il problema non è che la mia anima è immortale il problema è che che se c'è qualcuno che parla con me e si accorge di me ed è interessato a me anche quando io sono morto la questione della relazione entro cui va ascritta anche il tema dell'immortalità è una questione che non nega la domanda essenzialista cioè chi sono io e quali sono le mie doti ma attenzione dice non è sufficiente non basta definire chi sono io ma questa cosa è interessante ed è il motivo cioè a me ha colpito questa faccenda cioè abbiamo uno strumento nuovo grande che sta cambiando il nostro mondo eccetera eccetera che si chiama digitale in senso ampio e in 30 secondi dove l'abbiamo applicato è esattamente il tema della morte appunto è quella cosa che ci angoscia ma non è che con questo sistema riusciamo in qualche modo a perché perché a noi ci piace continuare a a confrontarci a internazionare cioè a relazionarci a stare con le persone che che ci vogliono bene a chi ci ha generato a chi abbiamo generato con quel cioè a noi ci piace continuare a vederci e a ricordarci lo facevamo anche prima pensate la funzione sia nella costituzione dell'individuo che della socialità dell'album delle fotografie di famiglia dove tu vedevi i volti e raccontavi alle nuove generazioni ah guarda questa qui è la bisnonna che tu non è me ma gliela racconti no in realtà è una cosa che facevamo già in passato no e ora certo lo facciamo in maniera più raffinata l'ologramma in qualche modo l'ologramma in qualche modo sembra di schiuderci un'autonomia di chi non c'è più maggiore rispetto alla fotografia che comunque è fisista ma però l'ambarce dietro questo ragionamento qua però se ci pensate noi continui ci piace questa cosa non facciamo non riusciamo fare a meno di pensare che ci sia qualcuno che si ricordi di me che abbia desiderio di me al contempo però questa cosa non ci piace l'altro episodio di Black Mirror se non l'avete mai visto che merita di essere visto è Be Right Back storia di una giovane coppia in cui il marito muore di colpo per un incidente incidente d'auto e siamo in un futuro leggermente avanti e a questa donna arriva a un certo punto un consiglio di un'amica e dice guarda c'è questo servizio se tu autorizzi questo servizio raccoglie appunto tutto il materiale digitale che c'è di tuo marito e sostanzialmente costruirà un avatar con cui tu potrà parlare ma non semplicemente ripetendo le cose ma è così raffinato che con la sua voce il suo modo il suo stile eccetera eccetera e a tal punto quando la moglie e la tua netta lei accetta e quando questa donna scopre di essere incinta del marito defunto e glielo dice questo risponde oh che bello diventerò papà tranne che potete immaginare ma vabbè ma questa il problema è che a un certo punto c'è l'upgrade di questo servizio cioè non soltanto c'è la parte online ma ti mandano il robot che è perfettamente con le stesse fattezze parla così e naturalmente anche un robot dove c'è una fisicità molto molto vicina all'umano diciamo o naturalmente come potete immaginare dal terzo giro ci vanno a letto perché è chiaro funziona così ma è interessante il finale devo svelarvelo mi spiace però sì devo ogni tanto ci tocca dopo un po' lei spegne il robot e lo mette in soffitta perché in qualche modo a noi questa cosa tanto piace quanto ci lascia ci lascia perplessi ci pensavo perché ci lascia perplessi perché è tanto bello poter dialogare con la mia nonna ma ma anche no perché abbiamo dentro un'idea chiara cioè che quello lì non è lui e che il giorno in cui io anche io potrò dialogare con i miei nipoti e così in realtà non sono io quello piuttosto è come me ma ma non sono me se ci pensate non usciamo dalla logica non ero io la fotografia che si vedeva nel passato o la statua che ho dipinto no ma non sono io neanche se faranno il mio il mio clone potremmo per arrivare al livello biologico della della moltiplicazione no siamo sempre in un dinamismo di mimesis di di un passaggio intermedio non sono io perché e questo mi sembra la questione su cui vale la pena andare avanti nei ragionamenti perché io sono più della mia immagine e non sono riducibile alla mia immagine io sono più delle mie idee e non sono riducibile alle mie idee che per me è anche una buona fortuna in tal alcuni momenti ci mancherebbe no io sono più dei miei dati questo è un tema più specifico se vogliamo no cioè in questo momento noi siamo tra il preoccupato e le già perché registrano tutti i nostri dati cioè ci viene a dire registrano tutto quello che siamo no noi siamo più dei nostri dati e se mi riducete i miei dati mi fate una riduzione fate una riduzione insieme io sono anche più del mio del del biologico del mio corpo questo tema e della morte dell'immortalità al tempo del digitale mi pare che seriamente nella nell'entusiasmo e nella perplessità che al contempo genera ci riporta alla questione del chi siamo appunto non del chi sono del chi siamo ricordiamoci la relazione in questo senso mi spiace rivendico il materiale ecco o meglio rivendico il reale cioè che è una articolata complessità adesso sentiremo rivendico il reale e proprio per questo mi spiace io sono triste perché devo morire sono triste non è una buona notizia morire non è una buona notizia e al cotempo riconosco che il carpe diem non è qualcosa da cui fuggire o angosciante ma esattamente il riportarmi alla responsabilità dell'esistenza io faccio il prete mi occupo del reale ecco perfetto ti ha già ampiamente me l'hai tolta di bocca allora complessità è diventato quasi un hype adesso purtroppo quindi magari ci spieghi che cos'è perché cioè al di là della confusione complicato complesso che è banale che è banale come dire che senza la morte non ci sarebbe la vita senza il confine non ce lo esci da queste robe qua che però sono reali obiettivamente Andrea ti lancia la palla non tanto e non solo della realtà e del materiale quanto della sua rappresentazione poi lui giustamente cita Bart e fa benissimo io credo io onestamente essendo confuso come te non so se la foto è più realistica o vero o simile dell'avatar non lo so e forse non ci tengo neanche tanto a saperlo a te è affidata la questione dell'immaginario nella misura in cui il rapporto con una realtà complessa ne costituisce una rappresentazione può funzionare così vediamo 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 allora no è chiaro che non in un quarto d'ora parlare di immaginario di complessità di morte di immortalità di tecnologia di materiale eccetera è impossibile quindi andrò così un po' a volo d'uccello sulla base delle vostre sollecitazioni soprattutto perché un ragionamento più sistematico non si può fare allora perché è così importante riflettere sul tema dell'immaginario perché contrariamente a quanto abbiamo sempre pensato la realtà materiale quella che noi costruiamo in tanti modi anche tecnologicamente quella che noi percepiamo quella che noi interpretiamo è già preformata da un sostrato una matrice immaginaria che ne definisce i caratteri a tal punto che Schopenhauer diceva che la storia dell'umanità è l'equivalente di un grande sogno cioè quello che si sviluppa nel corso della nostra storia non è altro che la realizzazione di un sogno ora io non lo so se era un bel sogno o se era un incubo o appuntate quello che abbiamo messo in opera tante cose fanno pensare che ci sia dell'incubo e ci sia del buono in questo sogno che abbiamo in qualche modo sviluppato nel corso della nostra civiltà ma sicuramente quando parliamo delle tecnologie attuali in particolare vediamo che c'è questa sorta di rivelazione del sogno Weidegger diceva che la tecnologia ha una capacità di disvelare disvela qualcosa che nell'umano era già contenuto e che fino a un certo momento non si era riuscito a realizzare quindi riposizioniamo un attimo il concetto la concezione che abbiamo della tecnica la concezione che abbiamo della storia della nostra storia della nostra civiltà e la concezione che abbiamo dell'immaginario per poter interpretare meglio quello che abbiamo adesso sotto gli occhi e cioè la possibilità di realizzare cose che prima erano soltanto nei nostri sogni l'idea di parlare con i nostri morti l'idea di relazionarci alle persone che ci hanno amato e che noi amiamo anche dopo che sono andate via l'abbiamo sempre sognata e l'abbiamo sempre praticata in qualche modo ma l'abbiamo praticata mantenendo questa separazione tra ciò che è reale e ciò che non è reale la tecnologia comincia a darci a dare a questa capacità di immaginare una potenza ulteriore che fa transitare dalla sfera del sogno alla sfera del reale e del materiale delle cose che fino ad ora non erano possibili possiamo mandare un attimo quel video che ho preparato l'arte contemporanea io credo che sia il contenitore più significativo delle questioni del nostro tempo quella che ci mette di fronte alle cose in maniera più complessa dopo vengo sulla complessità questo è un video che racconta la performance di un artista Iginio De Luca un grande artista secondo me che ha chiesto all'intelligenza artificiale di rispondere con una lettera della madre alle sue lettere e ha costruito ha lavorato sull'intelligenza artificiale per ottenere delle risposte che fossero assolutamente congruenti con quella che era la persona che lui ha conosciuto e poi ha riportato in una grande lettera sistemata su un furgoncino questo risultato essere andato in giro per Roma a ripercorrere le tracce della vita di questa madre fino alla morte per cancro in un ospedale romano tra l'altro è ambientato a Monteverde Vecchio e si intitola Gioia Mia questa lettera che lui espone quindi è estremamente commovente e poetico questo atto di riconnessione con la figura della madre attraverso un'opera tecnologica e artistica e poetica di particolare meccanico che è stato in luce adesso la mia città e la sua video è proposto di il confedale e tra me in strada a lasciare questo dialogo di proviso ha avuto 5 domande e le risposte derivano dalla cura di un fatto delle ricerche, perché, diciamo, una volta incontrita, per lo produttivo di tutti i pubblici, e quindi facciamo le informazioni speciali e serenze, in qualche modo lo stanno continuo, e vi è vero. Bene. Bene, un prosieguo. Insomma... E' conseguente. Qual è il problema? Adesso è veramente molto, molto difficile tracciare sistematicamente le tappe che portano a questo problema, ma per dirla in maniera molto sintetica, noi siamo di fronte... Sergio parlava di una transizione, una transizione estremamente lunga, credo, e lunga, neanche troppo forse, ma sicuramente estremamente complessa, da uno stadio dell'umano a un altro stadio dell'umano. E già cominciamo a vedere le prime caratteristiche di questo passaggio. una delle caratteristiche, io credo, più significative di questo passaggio consiste, non solo nel fatto che il linguaggio è oggi molto più sprovvisto di significato di quanto non fosse precedentemente, che c'è un'industria del senso, come la chiama lui, è l'industria dell'immaginario, l'industria di cui stiamo parlando, è l'industria che si rivolge all'animo umano, e non tanto ai beni fisici quanto alla nostra concezione del mondo, alle nostre percezioni, al modo di rappresentarci la vita e la morte, che ha modificato strutturalmente la nostra condizione esistenziale. Mettendo in fila tutti questi passaggi e mettendo in fila tutte le innovazioni tecnologiche che conducono a questo nuovo stadio, ci sono due cose che io vorrei sottolineare. Da un lato il fatto che, per esempio, nel caso della morte, che nel corso della modernità ha subito una grande rimozione, ha subito una grande allontanamento dalla vita degli individui, anche perché era sempre più insostenibile l'idea del morire in un contesto in cui le possibilità di vita si amplificano e si differenziano, e sono sempre più di responsabilità di ciascuno. Mentre un abitante delle società premoderne, come dice Max Weber, poteva morire in qualche modo soddisfatto della vita, perché il percorso della sua esistenza era già tracciato secondo certe regole, secondo certe condizioni, certi vincoli, l'uomo moderno è un uomo esposto all'immensità, alla non definizione preventiva del suo destino. Noi abbiamo costruito una società che ci permette, anche solo dal punto di vista culturale, dal punto di vista artistico, dal punto di vista simbolico, di accedere a mondi prima impossibili da immaginare, e questo fa sì che nessuno nella postmodernità può morire soddisfatto della propria vita, perché ci sono tante altre vite possibili che avrebbe voluto e potuto vivere. E questo è uno dei correlati di quel impulso, di quella tensione verso l'immortalità che ha delle radici profondissime e che sicuramente è legato alla importanza della relazione, ma è ancora più profondamente legato alla costituzione dell'individuo e della sua coscienza che nel momento in cui prende coscienza di sé come un individuo e sa di essere esposto alla morte e riceve questo trauma, immediatamente reagisce con l'idea che una forma di immortalità debba essere possibile. E questa immortalità noi l'abbiamo perseguita in tanti modi, culturalmente, geneticamente, attraverso le relazioni, ma anche e soprattutto attraverso un rafforzamento della potenza tecnica che ci permette di realizzare quello che prima era solo un sogno o quello che prima era solo un'aspirazione divina, religiosa, al divino con tutte le implicazioni che questo aveva. La tecnologia oggi è una nuova forma di religione e questo penso che sia abbastanza facile da, come dire, da ammettere. Noi tutti siamo convinti che con un'app ormai possiamo risolvere tutto. Qualunque sia il problema ci sarà un'app che ti risolve il problema. Nella tecnologia c'è implicito sia l'elemento religioso sia l'elemento magico e in più c'è la tecnica che ti permette di realizzare quello che altrimenti non sarebbe possibile. Questo a poco a poco ha generato e soprattutto l'arrivo del digitale ha comportato una sorta di desertificazione del vecchio reale, un spostamento di energie, di risorse, di investimenti, di aspettative nei confronti non del vecchio reale con le relazioni anche psicofisiche, affettive a cui siamo abituati, ma nel nuovo reale che è una combinazione di online e offline, è quello che gli studiosi chiamano l'on-life, studiosi come Lion o come Floridi. Quindi questo spostamento di attenzione e di investimento su una sfera che è la sfera dell'immateriale attraverso il digitale toglie investimento e risorse dall'altra sfera che è quella fisica. per esempio il fatto che il corpo fisico che è quello che muore oggi abbia sempre meno importanza e la sua presenza nel mondo diventa in qualche modo insignificante perché ciò che conta è la possibilità che quella presenza rimanga sotto altra forma. Quindi abbiamo una crisi profondissima della presenza, un ampliamento del regno dell'assenza dell'assenza nella sua complessità alla fine dirò che cos'è sta benedetta complessità perché se no non ci capiamo e una sorta di ibridazione costante tra i vari livelli e le varie dimensioni della vita a cui abbiamo sempre dato importanza per esempio il rapporto tra materiale e immateriale tra reale e immaginario io credo che si stia producendo a causa appunto della alimentazione dei simulacri in come dire e di riduzione della importanza della sfera fisica e biologica e naturale a cui siamo comunque collegati penso che si stia producendo anche una sorta di inversione del rapporto io insieme a Derek De Gercove che mi ha suggerito questa 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 definizione parlo di inversione del complesso di Don Quixote perché Don Quixote scambiava la fantasia per realtà noi stiamo cominciando a scambiare la realtà per fantasia o comunque le due cose sono talmente mescolate talmente intrise l'una dell'altra che la capacità di separare di operare separazioni anche per esempio tra il regno dei vivi e quello dei morti perché la sepoltura il cimitero il cimitero fisico è una forma di separazione e la relazione è possibile quando c'è la separazione se non c'è la separazione c'è una sorta di incestuoso e fagocitante magma che implica la confusione tra questo universo e quell'altro applausi applausi qui ci hai spiegato perfettamente cos'è la complessità ma non mi chiese spiegare no allora adesso faccio il giochino che avevamo concordato con una battuta secca cioè vi inverto tu non parli più di materiale perché basta parli di spirituale allora te la butto così quindi Thanatos vince sempre però tu non diventi più anima dopo che muori diventi un ologramma quindi resusciti in sottoforma di ologramma aiuto dai allora ti aiuto c'è questa frasetta la vita è un'opera d'arte citata inventata dal decadente dell'annunzio ripresa da Carmelo Bene adesso l'ha ripreso la Francesca Rigotti che scrive l'età del singolo quindi sei oltre l'individualismo liquido posmodè sei al singolarismo la tua vita è un'opera d'arte quando morirai diventerai un ologramma l'ha fatta semplice Diego ma a me viene da metterla così dopo aver ascoltato questi due interventi l'immortalità esiste nella relazione che noi possiamo costruire con l'altro altrimenti questo qui è un dato che svanisce l'immortalità vive nel ricordo che gli altri hanno di noi e quindi in una forma di relazione che portiamo fino ad oggi dentro di noi da oggi attraverso queste tecnologie tra noi è un supporto tecnologico che ci in qualche modo supporta in questo desiderio barra necessità di avere una relazione con chi non c'è più e quando questa cosa appare nella potenzialità tecnologica nella sfera della possibilità dell'esperire questo tipo di relazione cambia cambia la storia dell'umano e non c'è niente da fare è vero che a un certo punto poi si spegne nel racconto di Black Mirror l'androide che rappresenta perché quell'androide lì non ha quella che Andrea chiamerebbe anima e che è una parte irriducibile della nostra esistenza che noi percepiamo al nostro interno come un elemento essenziale non condivisibile e quella roba lì la persona del racconto percepisce nell'assenza perché ha tutto dell'altro tranne quel rapporto che in realtà non è mai dispiegabile fino in fondo perché nessuno può mai entrare dentro la mia anima e io non posso entrare nell'anima dell'altro ma in tutte le altre forme costruisco appunto una forma di relazione misurabile l'immaginario le idee i dati il corpo beh questa roba qui io la condivido un altro pezzo non posso condividerlo che è un elemento di quella spiritualità che in qualche modo attraversa la storia della specie umana che è irriducibile che è irriducibile è chiaro che questo rapporto tra la morte l'immortalità di alcuni aspetti della mia vita che possono essere tecnologicamente riprodotti beh insomma non è una cosa secondaria nella struttura sociale che si va a costituire perché se io posso non scomparire con gli aspetti con i quali posso relazionarmi con l'altro perché ho una tecnologia in grado di sostituire questi aspetti con cui io posso relazionarmi e beh l'abbiamo visto appunto nell'appuntamento di Forza Italia quella roba lì produce degli effetti sociali è cosa materiale è concreta al di là del fatto che quella persona non c'è più perché quell'elemento rimane in campo e io penso che da questo punto di vista il rapporto tra il tempo e la società nella quale si vive non è un rapporto scontato o definito per sempre nell'esperienza umana ad esempio un futurologo come Alvin Toffler già negli anni settanta distingueva almeno tre rapporti con il tempo lui diceva nelle società agricole il tempo è rivolto al passato perché perché è dal passato che io prendo le istruzioni necessarie per vivere tant'è vero che gli anziani depositari delle informazioni del passato avevano un ruolo gigantesco perché trasferivano le informazioni alla generazione successiva e quell'esperienza lì era l'hard disk fondamentale per poter vivere sul territorio e sfangarla quando c'era il bello e il cattivo tempo il ruolo degli anziani era potentissimo quando arriva l'industria quel rapporto si rompe perché perché la vita me la posso garantire attraverso che cosa un fare che costruisco immediatamente all'interno del processo di produzione apprendo dalla mia esperienza le informazioni che servono per la mia vita e quindi il tempo non è più rivolto al passato ma è rivolto al presente le informazioni del passato le tradizioni sono importanti ma cominciano a scemare sono importanti quando tengono insieme la comunità nel ricordo di quello che eravamo ma nella vita pratica quando io divento produttore delle cose che servono alla mia assistenza non mi servono quasi più quando arriva la società dell'informazione addirittura prima del digitale ma poi col digitale l'esplosione è enorme al Wintoff negli anni 70 prima del digitale diceva la società dell'informazione ha un tempo nel futuro perché l'individuo deve poter immaginare quello di cui avrà bisogno domani per farlo oggi e questo rapporto con il tempo modifica la relazione con la vita inevitabilmente e anche con la morte perché se il tempo della mia vita è tutto collocato al domani il domani mi consente tutte le possibilità del mondo tra cui anche quella dell'immortalità potenziale e infatti il rapporto con la morte comincia ad essere cancellato dalle società che entrano dentro quella fase quasi cancellato non so ieri facevamo in una chiacchiera diciamo così pre dibattito di oggi una piccola indagine ognuno di noi capita in maniera disgraziata di partecipare a dei funerali quanti bambini partecipano oggi ai funerali zero perché perché noi la morte la mettiamo fuori dalla relazione della vita cosa che fino a ieri invece non lo era anzi anzi quell'esperienza era un'esperienza che doveva essere compresa per poter vivere dentro la società questa espulsione ne ha fatto però a mio avviso e qui diciamo lascio con una domanda probabilmente la merce più importante dei prossimi anni perché non è stata occupata fino a oggi da un mercato il mercato ha occupato tutto tutto delle relazioni umane non c'è più nulla che non sia misurabile in termini di merci addirittura con il mondo diciamo del metaverso viene ricostruito un mondo dentro la quale fare esperienze che è già totalmente una merce in quanto tale la morte fino a oggi è stata fuori da questo meccanismo io credo che noi cominciamo ad avere bisogno questo è la funzione dell'economia capitalistica è quella di occupare gli spazi che fino a ieri non erano occupati e di trasformare quegli spazi in merce noi stiamo sperimentando a mio avviso le primi primi tentativi primi vagiti di trasformare anche quel momento della vita in un momento in cui si può produrre qualcosa e questa cosa si produce non solo attraverso il momento drammaticamente fisico dell'esperienza della morte di tutto quello che è connesso ma anche nella sua riproducibilità tecnica avrebbe detto Benjamin cioè del fatto che quella morte può essere in qualche modo interdetta può essere sospesa nella relazione con il vivo fino a quando c'è qualche vivo come diceva mi pare prima Andrea che interloquisce con quella richiesta e quindi la sostituzione della vita con una sua rappresentazione tecnica che in qualche modo è lì a disposizione del vivo per poter soddisfare un bisogno che è poi quello che il mercato in qualche modo tende sempre a produrre nell'esperienza della vita umana non so se ti ho risposto ma spero di aver detto qualcosa mi hai risposto al punto che Maria Giovanna ha detto voglio parlare io quindi è però però no va bene ok però mi prometti che poi ci racconti due robe sulla complessità perché sennò scusate no quello che stava dicendo Sergio mi ha sollecitato una parte della della discussione che che prima ho dovuto eliminare a proposito appunto delle delle inversioni a cui cominciamo ad assistire questo rapporto tra vita e morte io credo che perché è importante ragionare sull'immaginario perché l'immaginario e l'arte sono sempre anticipano sempre quello che sarà avete notato che negli ultimi 10-15 anni la rappresentazione del teschio dello scheletro sulle e sui capi di abbigliamento e sui ninnoli che si usano per la casa è dilagata dappertutto in ogni mercato del mondo questo sarebbe stato impensabile 50 anni fa ancora 50 anni fa sarebbe stato impensabile perché il tabù della morte era ancora simbolicamente molto forte e perché quella reazione di negazione che ha caratterizzato la modernità effettivamente si è protratta fino a qualche decennio fa noi siamo in un'epoca invece in cui il tabù della morte è già stato bello che rivoltato non solo abbiamo teschi e scheletri un po' dappertutto ma pensate ai videogiochi pensate certo che i bambini non vanno ai funerali i bambini della morte la conoscono attraverso i videogiochi attraverso il fatto che è temporanea è qualcosa che si può dare ma tanto poi se sei bravo te la cavi e dopo un po' vinci la tua battaglia pensate che cosa questo implica dal punto di vista proprio della concezione del mondo che si costruisce nei primi anni dell'infanzia mettiamo insieme tutte queste cose e mettiamo insieme il fatto che noi viviamo in una società dove il codice di riferimento i codici ormai sono due sono integrati che orientano i significati orientano i comportamenti e danno in qualche modo senso all'azione sono il codice economico e il codice tecnologico adesso si sono integrati per benino insieme e questo a proposito di complessità la complessità è quel pensiero e quella analisi della realtà che permette di vedere le interazioni fra le cose non solo i singoli elementi presi singolarmente ma le connessioni dinamiche oltretutto che si sviluppano tra gli elementi e tra le dimensioni e i sottosistemi che questi elementi creano interagendo fra di loro quindi se pensiamo a questi due sottosistemi quello economico e quello tecnologico come due sottosistemi integrati profondamente integrati che comandano perché il loro codice comanda nel senso che decide l'orientamento dei significati cioè se tu fai qualcosa nessuno si chiede se lo fai perché ti piace o perché si chiede che interesse hai quanto ci guadagni e se fai una cosa adesso nel mondo della tecnologia lo fai con il codice che ti come dire ti dà la possibilità di realizzare concretamente un un apparato una procedura un algoritmo che con la sua potenza ti trasforma la realtà questi due codici governano la nostra società e il rapporto con la morte che ne deriva è un rapporto che ha già inglobato dentro di sé l'idea dell'immortalità se non è un'immortalità immediata è comunque una amortalità è comunque un continuo gioco a rimpiattino con la morte è un continuo come dire estrometterla ma introiettandola è una sorta di mitridizzazione quella che stiamo vivendo nel rapporto con la morte c'è una sorta di immissione omeopatica dell'accettazione di questa eventualità ma come qualcosa di governabile dominabile acquisibile addirittura e manipolabile attraverso la tecnologia questo è uno dei risvolti di quelle inversioni a cui facevo riferimento prima non so non credo di essere catastrofista dicendo queste cose qui mi sembra di leggere un andamento attraverso dei segnali che mi risultano particolarmente rilevanti allora no no anzi il mio era un ma di chi stava riflettendo su quello che stavi dicendo allora io ho nella mia testa un ultimo intervento per Andrea poi veramente sarei felice se qualcuno ci ha interloquire con qualcuno Andrea adesso tocca a te la parte super materiale allora ti cito questa allora lui si chiama Cosimo Accoto è un filosofo e scrive un libro pubblicato da Egea che sul cui titolo se non mi ricordo male è storia è nella realtà in sintesi oh allora però nelle varie è molto molto bravo veramente bravo cita tre pezzi che brevemente riporto una è una frase di Chris Anderson ai tempi direttore di Wired ripresa poi da Alex Pentland che è il suo tutor all'MIT che dice che ci frega del pensiero noi possiamo sapere tutto e quello che non sappiamo è perché non abbiamo ancora avuto il tempo la voglia di raccogliere dati per saperlo tradotto sappiamo tutto delle malattie ma non sappiamo perché la gente si ammala perché non l'abbiamo ancora studiato se invento l'intelligenza artificiale e gli chiedi e la a destro sul tema metropolitane e lavori pubblici l'intelligenza artificiale mi dirà con dovizia di particolare e precisione a Roma no per esempio la domanda la domanda è da Cantiano perché a me piaceva quella fazione lì esiste una critica della ragione sintetica come evoca Coton noi dovremmo arrivare secondo Coton a capire l'esistenza di Dio metto la mano in tasca voglio sapere se ho le monete metto la mano in tasca e vedo se ho le monete come faccio a capire il grado l'entità di realtà della realtà sintetica secondo te tra l'altro sempre nelle chiacchierate predibattito sia io che lui siamo totalmente a favore della carne sintetica lo so lo so lo so lo so ma è una butade ma visto voler parlare nel pratico a parte delle loro perdizioni faccio il pratico fino adesso avete parlato abbiamo parlato di immortalità ma abbiamo mentito non abbiamo quello che noi a quel il fenomeno a cui noi riferiamo la parola immortalità in realtà se siamo seri è un fenomeno di allungamento del tempo dell'esistenza diciamo o l'immortalità nel senso come tempo cioè come diciamo come prolunga in realtà uno dice cioè non è perché immortalità appunto ma anche la mortalità dice una cosa che non accadrà mai ora quando io parlo ai ragazzi dico soprattutto alle ragazze attento perché attenta perché quando lui ti dirà che ti ama per sempre sta mentendo se tutto va bene 80 anni 90 attenzione in realtà noi mischiamo cioè confondiamo il tema dell'immortalità con il tema della di un prolungamento indefinito non è la stessa cosa e non è la stessa cosa se noi beh non pensavo ero detto una cosa così eccoci e non è la stessa cosa se noi decidiamo di accedere all'affermazione che è stata fatta prima che Thanatos vince sempre cosa vuol dire che Thanatos vince sempre è vero da un lato è vero e bisogna ridircelo e bisogna ridirlo con la serietà di chi non può permettersi di comunicare alle giovani generazioni che la morte come quella dei videogiochi ci aspetti un'ora e te ne danno altre cinque no la morte c'è e siamo mortali e se c'è una un guadagno nella infinita tragedia che abbiamo vissuto con la pandemia negli anni scorsi e che abbiamo dovuto tornare a spiegare ai nostri bambini cos'erano quel numero che per due anni tutte le sere ci dicevano micidialmente è vero siamo mortali e come tale appunto quello che noi pensiamo come immortalità in realtà è il tentativo di spostare un po' più in là fino a quasi non vederlo sperare di non vederla questa cosa che se volete è la forma della tecnologia che noi stiamo introducendo nel mondo sanitario appunto cioè dello spostare il più la dico una battuta oggi come oggi i medici non ci fanno più morire con tutti i problemi di poi chi alla fine ogni tanto mi dice ragazzi non ce la faccio più mi lasciate andare mi lasciate andare con la complessità di regolare poi questo in una forma sociale ma il fatto che siamo mortali vuol dire che la morte ha vinto mi ha colpito com'è quell'app che ti dice cinque volte al giorno che devi morire è interessante perché mi ha colpito il cinque perché cinque sono le preghiere del credente musulmano e cinque sono le ore della preghiera monastica cristiana ma qual è la differenza tra i cinque messaggini e e volutamente lo dico in due religioni diverse quindi non è che no cioè mentre il messaggino ti riporta alla tua condizione mortale punto le cinque preghiere di queste due esperienze religiose magari ci saranno anche in altre ma le conosco meno ti pone per cinque volte al giorno in relazione cioè nell'esperienza della preghiera uno in qualche modo attiva un dialogo con qualcun altro sì è il passaggio dal possesso della mia vita dei miei dati delle mie cose del mio destino del mio futuro tutto quello che ci siamo detto al passaggio della relazione e del fidarsi e dell'affidarsi reciproco no nella mia storia è vero trovo il desiderio di un di un venire di non essere mortale perché questa cosa ma non trovo i motivi per cui sono autorizzato a sentirmi immortale non ce li ho dentro di me ma questa cosa funziona cioè scusate questa cosa non è il tutto perché c'è la relazione e la relazione mi schiude e mi schiude all'altro e mi schiude al mistero e mi schiude a ciò che io non riesco a pensare a ciò che io non riesco a determinare io non voglio a me dell'esistenza di Dio onestamente non è che sono molto cioè non è un tema che mi accalora no men che meno quelli che tentano di provarla fra l'altro è interessatissimo cioè è uscito ciao GPT e in 30 secondi qualche mio collega è andato a chiedere esiste Dio perché capite che se lo diceva anche ciao GPT era fatta ragazzi cioè riconquistavamo al volo l'audience perduta negli ultimi secoli cioè l'ho detto io il pape l'ha detto ciao GPT no ma sarebbe interessante leggere quello che l'intelligenza artificiale ha fatto dire alla mamma cercavo di leggere qualche qualche frasetta il mio problema non è se Dio esiste o Dio non esiste il mio problema cioè la questione decisiva è custodire un'apertura cioè essere riconoscere di non che non che non che sono più di quello che ho dentro di me e che sono e che riconosco e questa cosa non me la dice l'anima me la dice la mia storia e la mia persona che è un miscomplicato che poi in occidente abbiamo usato il codice anima e corpo che era un modo con cui la bibbia per esempio no usa un codice tripartito parla di anima corpo e spirito è interessante è già un po' più va bene sono i codici cortolari con cui abbiamo cercato di però finisco dopodiché se c'è una cosa che il digitale secondo me impone in questo momento anche all'esperienza cristiana adesso è proprio il tema della carne ricostruendo e riconsegnando in realtà la tradizione cristiana una cosa che esattamente questo tema nel nel credo che è la preghiera che insegnavano soprattutto i nostri nonni noi non diciamo non c'è scritto credo l'anima immortale ma diciamo credo la risurrezione della carne della carne di questa concretezza che non ci viene meno e che non ci è del tutto disponibile che è Grazie.